Diciamo che parte soprattutto dalla soddisfazione di un lavoro svolto insieme a questa coalizione, a questo gruppo di donne e uomini, ragazze e ragazzi con i quali ho cominciato a lavorare già da febbraio, quindi un lavoro intenso prima nella formazione e nella struttura del programma e poi nel presentarlo, stando insieme alla gente, nel raccogliere anche tutti i suggerimenti. Quindi è un lavoro veramente bello perché vuol dire che quando uno ci crede, soprattutto ha una squadra dietro, ci sono degli intenti in comune, molto spesso le cose escono. Poi ovviamente anche il fatto che non fosse una sfida facile, in quanto il sindaco uscente poteva candidarsi per altri cinque anni e quindi ero ben consapevole, avendo già amministrato, che questa era una cosa insomma non semplice, però abbiamo capito che c'era voglia di cambiamento, l'abbiamo interpretato, quindi ecco la soddisfazione grande è quella di essereci in qualche modo fatti capire. E poi ovviamente essere un sindaco donna per la prima volta in un comune a me vicino perché io abito a due chilometri da Cattolica e diciamo così che la città che frequento da sempre, da quando ero ragazzina, è una bella soddisfazione. Una bella soddisfazione e soprattutto così anche una bella responsabilità perché questa mattina insomma mi sento anche così questa cosa, questa responsabilità importante che fa parte insomma dell'amministrare, che fa parte dell'amministrare che io conosco e che si mette insieme anche poi anche la bellezza di raggiungere degli obiettivi, di fare qualcosa per i cittadini, di costruire servizi, insomma questo è importante. Da domattina insomma sarò in ufficio in comune quindi mi dedicarò a questo nuovo impegno che è sicuramente per me stimolante e di soddisfazione, quindi sì sì, da domani si comincia a lavorare.